Allora, dunque l'Unione, partiamo subito, è prevista e regolamentata dall'articolo 32 del testo unico al decreto legislativo 267 del 2000, il testo unico degli enti locali, che è stato modificato di recente, come è stato ricordato, con il decreto con la legge 135 del 2012, cioè spending review, che conosciamo, magari abbiamo sentito per altri motivi, e contestualmente la legge 135 del 2012 rappresenta l'approdo momentaneo di riforma dell'associazionismo comunale che è stato reso obbligatorio per i comuni fino a 5.000 abitanti e con delle diversificazioni anche per i comuni fino a 1.000 abitanti. E quindi è stato visto come un disegno unitario e complessivo, quindi l'Unione è pensata soprattutto ed è mirata, come protagonisti principali e destinatari comuni fino a 5.000 abitanti, poi è nella facoltà degli altri comuni comunque di aderirvi. Però questi comuni devono aderirvi conferendo delle funzioni, delle funzioni fondamentali cosiddette, che sempre la legge 135 del 2012 ha stabilito e sono 10 funzioni fondamentali, di cui 9 sono obbligatoriamente da conferire entro il 31 dicembre di quest'anno, quindi siamo anche in ritardo, perché fino al momento si è andate avanti con le convenzioni che poi alla fine non conferiscono niente, ognuno continua a fare la sua funzione, il suo servizio nel suo comune e formalmente adempia l'obbligo. Però quest'anno bisogna farlo, quella legge prevede anche delle sanzioni. Mentre gli altri comuni hanno facoltà, però è normale che quando si va a fare un'unione, cioè si va a fare per mettere ai comuni sotto i 5.000 abitanti, che poi sono anche la maggioranza qui nell'area dello stretto, perché se escludiamo Scilla, Motta, Villa e Bagnara sono tutti sotto i 5.000 abitanti. Quindi questa decisione, le 9 funzioni fondamentali, poi c'è la decima che sarebbe anagra per Stato civile, statistica ed elettorale, che non è obbligatoria, però si può sempre mettere in unione, diciamo. Queste 9 funzioni coprono l'80% del bilancio comunale, se non oltre. Faccio prima a dirvi cosa rimane fuori. Rimane fuori cultura, tempo libero, sport, biblioteche, quindi anche attività produttive, sviluppo economico, competitività. Tutto il resto va nell'unione. Dice, vabbè, cosa fa l'unione? Quindi si pone il problema dal punto di vista finanziario e dal punto di vista organizzativo, strutturale, del personale. E a questo adesso arriviamo. Io non vi sto a leggere tutta la parte perché sono oltre 20 pagine dedicate solo all'unione. Quindi vi dico sinteticamente, poi potete anche approfondire. Per quanto riguarda la costituzione dell'unione, come si costituisce l'unione? Un atto costitutivo, come un normale organismo pubblico, diciamo associativo, o anche privato. Cioè un atto costitutivo che deve essere firmato da tutti i sindaci, approvati dai consigli comunali che fanno parte. E poi l'unione, la cosa fondamentale cos'è? È un ente locale. È un ente locale come il Comune e la Provincia. Quindi ha un suo statuto che viene approvato e degli organi che sono, diciamo, paralleli a quelli degli altri enti locali, cioè del Comune. Solo che si chiamano in maniera diversa. Lo statuto è praticamente, diciamo, ha la stessa forma di approvazione, cioè è approvato dai due terzi del Consiglio dell'Unione, oppure è approvato entro 30 giorni per due volte dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dell'Unione. Poi viene pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni, viene pubblicato sul bollettino ufficiale, viene trasmesso al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti, comunali, provinciali. E questo, diciamo, è la formazione dello statuto, l'approvazione dello statuto. Fatto costitutivo, quindi abbiamo detto. Quanto riguarda invece l'aspetto finanziario e del personale? Dunque, intanto l'articolo 32 che non abbiamo letto, ma possiamo, diciamo, è stato riformato dalla legge 235, è stato pure bello, è stato reso bello lungo, voglio dire, non è che tanto breve. Ma vi posso dire che, ad esempio, uno spunto, l'Unione incassa direttamente le imposte, i tributi, le tariffe per i servizi e le funzioni che svolge. Per esempio, se l'Unione svolge direttamente per conto dei comuni il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, incassa direttamente, al comune non passa niente, se gestisce il servizio idrico, incassa direttamente tutte le tariffe, i canoni, i tributi imposti. Le altre no. Quindi, questo cosa significa? Significa che nei bilanci comunali bisogna prevedere delle voci, praticamente nella parte uscita, che dovranno essere trasferimenti all'Unione. Soltanto che, se non si imposta bene questo discorso nell'ambito dello statuto e dei regolamenti pari che si approveranno di funzionamento, cosa succede? Succede poi che l'Unione, dopo il secondo anno, non ricevendo più trasferimenti, non può più andare avanti, deve andare il default. Perché, essendo un ente di secondo livello, praticamente non ha entrate proprie. Le entrate sono quelle di trasferimenti che riceve dai comuni che ne fanno parte, che sono associati. Lo stesso discorso vale per il personale. Tutte le funzioni e i servizi vengono trasferiti e quindi tutto il personale che è dedicato nei singoli comuni a quelle funzioni deve essere trasferito all'Unione. Quindi viene eliminato dalla dotazione organica del comune e viene iscritto nella dotazione organica del nuovo ente locale, che è l'Unione. All'inizio converrà, diciamo, a procedere con i comandi o con il part-time, perché bisogna stabilizzarsi e vedere le esigenze. Anche dei comuni, perché i comuni poi devono comunque continuare a svolgere qualche attività, la devono fare. Soprattutto gli affari istituzionali, generali e tutte le altre funzioni che rimangono, che ho detto prima. Il personale ci deve essere. Tra l'altro anche la riscossione dei tributi, per esempio, continueranno a farli comuni. Per farvi l'esempio, c'è l'IMU, cioè non è che poi delegabile all'Unione. L'attività si potrà poi delegare in futuro, ma è il comune che decide le aliquote, è il comune che è in cassa e poi le userà per spese correnti, li trasferisce in parte all'Unione, in parte li tiene, in base alla sua percentuale di conferimento. Quindi è importante questo aspetto finanziario e l'aspetto del personale. Oppure si potranno utilizzare le assegnazioni ai sensi della legge finanziaria del 2005. Perché? Cosa dice questa legge finanziaria? Dice che i comuni sotto i 5.000 abitanti o le unioni possono utilizzare il personale di altri comuni in misura aggiuntiva rispetto al loro normale orario. Quindi vado a fare 12 ore all'Unione, quindi io posso avere il personale al comune per 36 ore e poi 12 ore le faccio all'Unione e sono aggiuntive e quelle vengono corrisposte direttamente dal comune. Però comunque in via definitiva poi l'Unione avrà una sua dotazione organica, un suo fabbisogno del personale, però complessivamente perché, come è stabilito dalla legge, la spesa del personale dell'Unione non può superare quella del personale dei comuni che fanno parte, anzi, poi ce lo mettono sempre questo però non si è capito come va a finire perché deve avere una tendenziale riduzione. Però riduzione all'infinito poi, se non si ferma sta tendenziale riduzione perché da dieci anni che dobbiamo ridurre la spesa del personale ogni volta deve essere minore dell'anno precedente oltre gli altri vincoli, non so, voglio dire all'infinito. A parte che poi adesso i contratti collettivi sono bloccati però nel momento in cui, perché all'infinito neanche quelli si possono bloccare, già il potere d'acquisto è sceso del 4%, avete visto, no? sono bloccati dal 2010 al 2014, già prorogati, bloccati, cioè 5 anni, è una cosa, diciamo, che non si è mai vista. Nel momento in cui si riattivano, cioè la spesa del personale, già si pone un problema perché non può essere minore, è una cosa matematica, no? E quindi questo per quanto riguarda il personale, la spesa complessiva, quindi non può essere superiore deve essere inferiore. In più, un'altra cosa importante che spesso viene sottovalutata l'Unione svolge le funzioni e i servizi dei singoli comuni. Ovviamente quello che io ho dato all'Unione da svolgere non posso fare più niente e quindi non posso avere del personale che continua a fare quel lavoro non posso avere un responsabile, un dirigente lo fa l'Unione si deve evitare la duplicazione lo dice anche la Corte dei Conti perché quando si è cominciato a fare le convenzioni poi cosa si sono industriati? Dice, vabbè, noi facciamo l'ufficio comune per la gestione per dire dei lavori pubblici però poi facciamo la sede locale del comune di la sede distaccata del comune di e poi là c'è un responsabile si continuava come prima e la Corte dei Conti ha detto no cioè quella è una misura di contenimento della spesa se tu mi fai l'adempimento formale e poi dopo continui a fare come prima non hai adempiuto a niente e quindi anche qui ci saranno dei dirigenti, dei responsabili dei servizi dell'Unione e funzioni dell'Unione come ad esempio la Polizia Municipale che poi non potranno avere un duplicato o rimanere induplicato ancora in base di partenza al comune il comune trasferisce e se ne libera diciamo, o se ne, come dire, abdica il problema è che fino ad oggi per cui non si sono fatte le unioni intanto vorrei dirvi una cosa in Calabria quante unioni ci sono? 6 dato 2011 Anci, se volete su Anci c'è un portale che si chiama portale Anci Unione e lì ci sono tutti i dati al 2011 in Emilia Romagna sapete quante unioni ci sono? oltre 50 e ce n'è una che viene sempre citata come riferimento che si chiama Abbasso a Romagna anche per andare a vedere gli statuti perché da noi, secondo me esco dal campo normativo e ci sono, dico, oltre tutte le motivazioni antropologiche sociologiche brillantemente illustrate prima ci sono anche intanto c'è la paura dell'ignoto, secondo me cioè se noi dobbiamo andare a fare una statuta dell'unione già non sappiamo non abbiamo un'esperienza di riferimento dobbiamo andare a vedere l'Emilia Romagna in Toscana dove in Toscana poi è successa pure un'altra cosa cioè le comunità montane in Toscana gli hanno detto non gli hanno detto le abroghiamo gli hanno detto se entro il 31 dicembre tu non ti trasformi in unione di comuni sei abrogato in Toscana tutte le comunità montane sono attualmente unione di comuni così loro hanno tempiuto a tre cose contemporaneamente sono sopravvissuti hanno rispettato l'obbligo di conferimento delle funzioni e sono un esempio voglio dire le miglioromagne sono tante perché poi diciamo è ovvio uno non vuole abitagare dice alla propria sovranità dice vabbè ma io cosa metto e poi cosa faccio cosa farò e quindi questo è l'altro motivo però in realtà al di là del conferimento obbligatorio delle funzioni di servizi questi che sono obbligatori le funzioni fondamentali in realtà non c'è un limite minimo cioè prima il regime era facoltativo no? facoltativo fino al 2010 voleva dire io facevo l'unione mettevo in unione non so polizia municipale e raccolta dei rifiuti basta era fatta l'unione cioè non è che c'era adesso invece si incrociano diversi diversi punti cioè da una parte c'è l'obbligo associativo per i comuni piccoli sotto i 5.000 abitanti convenzionalmente e piccolissimi sotto i 5.000 abitanti questi ormai si devono unire non possono farlo in convenzione anche perché adesso stanno facendo questa modifica che mi dicevano prima che ti dicono la convenzione tu la puoi fare però per 5 anni poi dopo ti devi fare l'unione per forza quindi l'unione viene resa obbligatoria da un altro punto di vista e dall'altro ormai diventa uno strumento indispensabile per la città metropolitana quindi adesso diciamo da un regime prima facoltativo si passa a un regime obbligatorio con un contenuto obbligatorio minimo un contenuto minimo che è bello sostanzioso perché se supera l'80% di quello che attualmente fa il comune voi capite che praticamente rappresenta la gran parte dell'attività dell'ente io se volete se ci sono domande non voglio trattenervi oltre comunque qui ho approfondito tutti questi aspetti nella relazione posso anche una valutazione tra le cose positive e quelle negative dell'unione allora dell'unione dunque sicuramente allora strong and weakness come dicono gli inglesi punti di forza spot analisi spot analisi dei punti di forza e di debolezza allora intanto se vi posso dire una mia riflessione personale il problema dell'unione dice l'unione ha una sua sede poi dove la facciamo la sede di solito si fa in uno dei comuni no a Villa San Giovanni però a Villa San Giovanni poi loro devono capire chi è dipendente dell'unione e chi è dipendente del comune perché se fanno confusione non partirà mai è una questione anche di mentalità io sono dipendente dell'unione o sono dipendente del comune è una cosa molto diversa perché a me mi pagherà se sono dipendente dell'unione mi pagherà l'unione sono iscritto diciamo nel libro paga dell'unione se invece si continua con la mentalità precedente non si approderà mai al nuovo ente perché l'ente è fatto dalle persone che lo compongono prima di tutto non vi ho detto degli organi vabbè gli organi sono paralleli a quelli del comune però si chiamano in maniera diversa poi essendo di secondo livello sono composti dagli amministratori che compongono i comuni che partecipano il consiglio dell'unione ha diciamo è composto da un numero di consiglieri pari a quelli dei comuni corrispondenti per popolazione ed sono eletti dai consigli comunali dei comuni che fanno parte la giunta esecutiva che corrisponde alla giunta è composta sempre dagli assessori dei vari comuni sempre eletti con lo stesso metodo e poi c'è il presidente che è eletto dai sindaci da tutti i sindaci dei comuni che fanno parte poi siccome ormai essendo appunto un ente di secondo livello siccome c'è la spending review sapete che da tempi dal 2010 gli enti di secondo livello è tutto diciamo senza gettoni senza incrementi per la spesa pubblica o per la finanza pubblica senza maggiori spese cioè gratuito tutti questi incarichi vengono svolti in maniera gratuita i punti di forza sono innanzitutto le economie di scala altra cosa è la possibilità di svolgere funzioni e servizi con un'efficacia e una addirittura una possibilità che non ci sarebbe per i piccoli comuni di svolgerlo grazie all'Unione perché ci sono dei casi in cui alcuni servizi hanno un costo marginale il cosiddetto quello che gli inglesi chiamano break even point cioè vuol dire il punto di rottura il punto di non ritorno oltre il quale io non ho più possibilità di farlo la spesa il costo marginale è superiore all'introito quindi non c'è sostenibilità economica quindi per molte cose il piccolo comune ha la sostenibilità economica e può svolgere cose che prima non poteva fare e con l'economia di scala anche il grande comune comunque siccome si unisce e unisce le sue economie a quelle degli altri fa massa critica e gli costa di meno farlo il servizio perché se io devo fare lo scuolabus della frazione di Melia da San Roberto se io faccio lo scuolabus e lo faccio per tutte e due non dico che mi costa la metà ma che mi costa molto meno i punti di debolezza diciamo i punti di debolezza c'è la diffidenza che c'è adesso nel senso che fin quando non viene fatto ci sarà fin quando non andrà c'è la difficoltà di andare al regime andare al regime con unione non è una cosa semplice c'è un percorso semplice tant'è vero che dalle analisi effettuate tutto questo discordo i primi anni i primi tre anni probabilmente è impossibile avere delle economie o delle riduzioni della spesa perché bisogna entrare al regime quindi quello che la legge prevede che bisogna la tendenziale riduzione è una cosa che dal punto di vista pratico nell'immediato è tecnicamente pressoché impossibile perché diciamo questo è stato fatto dalle analisi delle unioni che già ci sono da anni ma i primi due tre anni è impossibile avere delle economie perché bisogna rodare il tutto e andare al regime altro va bene comunque chi la vuole chi vuole la relazione io lascio la scrittura organizzativa oppure mi lasciate l'email adesso stesso ve la mando con piacere grazie 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 a tutti